Ciao a tutti da Mantecnologi, oggi vediamo la recensione degli auricolari Full Wireless Arbilly F8 che sono sostanzialmente il successore dell'F7, un modello abbastanza richiesto su Amazon che a differenza dell'F8 aveva i pulsanti fisici e non i pulsanti touch che abbiamo invece in questo modello. All'interno della confezione abbiamo le classiche cose, fogliettino di estensione a garanzia, cavetto da una parte USB-A e dall'altra USB-C e poi ovviamente i vari adattatori per l'orecchio. Troviamo anche il manuale delle istruzioni e grazie a Arbilly è anche in italiano fatto molto bene, ci sono elencati tutti i comandi in maniera molto chiara ma sostanzialmente il prodotto è questo che come vedete ha un case e un peso non indifferente ma vedremo che queste specifiche hanno un fine ovvero quello di portare questo prodotto ad un'autonomia che non ho mai sperimentato prima perché sono veramente esagerati in termini di autonomia. Vediamolo innanzitutto tutto nero con il logo Arbilly si vede, adesso non so se la telecamera riesce a inquadrarlo ma si riesce a intravedere i led colorati degli auricolari e questo mi permette di capire se gli auricolari sono in carica o meno. Diciamo che non è una visione proprio perfetta però comunque si vede abbastanza. Qua vediamo la porta di ricarica del case e scopriamo la prima specifica diciamo molto importante. Come vedete c'è la porta USB-C e anche la USB-A. Questo perché? Perché il case ha una batteria integrata di 2500 mAh quindi si classifica quasi come un power bank e questa cosa mi torna molto utile anche per via del cavetto che vedete io posso utilizzarlo sostanzialmente per ricaricare il case in questo modo tramite l'USB-C ma poi all'occorrenza se ho un telefono con USB-C io posso utilizzare lo stesso cavetto per collegare il case al telefono e quindi andare a ricaricare i miei dispositivi. Quindi questa è la prima specifica che secondo me è molto molto importante di questi auricolari perché davvero è fondamentale avere 2500 mAh in questo case che mi permettono non solo di ricaricare altri dispositivi ma di avere un'autonomia degli auricolari veramente esagerata. Pensate che come da diciamo istruzioni, come da dati ufficiali io potrei ricaricare fino a 100 volte gli auricolari, auricolari che hanno integrati una batteria da 85 mAh quindi Arbely come dato ufficiale da che posso ricaricare fino a 100 volte. È un tipo di ricarica che assolutamente non avevo mai visto sugli altri auricolari che abbiamo recensito in passato. Come vedete una volta aperto lo sportellino abbiamo accesso agli auricolari e a questo piccolo display anche questa è una piccola chicca, una piccola particolarità di questo modello. All'interno diciamo al centro abbiamo queste percentuale che mi indica lo stato di carica del case e poi abbiamo queste due batterie che mi indicano lo stato di carica e il fatto che siano in carico o meno gli auricolari quindi in maniera indipendente mi indica se l'auricolare sta caricando oppure no. Vedete che qua c'è il led diciamo sull'auricolare, non è che hanno dei colori diversi semplicemente questo adesso si è predisposto per l'accoppiamento, anzi probabilmente sarà già accoppiato questo si sta ricaricando. È molto semplice il funzionamento e come avete visto quindi questo è già accoppiato perché nel momento in cui io vado ad aprire lo sportellino loro si predispongono, vedete che lampeggiano e adesso sostanzialmente sono già accoppiati. Andiamo a vedere nello specifico giusto per essere sicuri e quindi aumentiamo la luminosità di qua Allora, chiudiamo lo sportello e vedete che l'F8 è sostanzialmente scomparso apriamo lo sportello lampeggia e F8 adesso è già connesso Connessione veramente veloce, praticamente nel momento in cui voi andrete ad estrarre gli auricolari e infilare nell'orecchio e sostanzialmente sarete già connessi Una cosa, l'unica cosa che forse non mi è piaciuto di questo case sono gli aghi che vedete qua quelli che sostanzialmente trattengono, danno la ricarica agli auricolari perché lo dico? Allora, il collegamento diciamo è magnetico, ok? Lo vedete anche voi che vengono attirati però ecco, vedete cosa succede? Capita ogni tanto che il posizionamento sugli aghi non è perfetto e quindi capita a volte magari di riporli e se magari siamo di fretta magari rischiamo di riporli in maniera non corretta e quindi non vanno in carica questa cosa onestamente non mi è strapiaciuta però diciamo che nel complesso è veramente l'unico difetto che ho trovato da segnalare in questo auricolare per il resto, dicevo, attacco magnetico molto forte stanno veramente all'interno del case senza problemi andiamo ad estrarli e quindi vediamo adesso l'auricolare sostanzialmente abbiamo detto che qui c'è l'anello che sostanzialmente una volta indossati sparirà sopra c'è visibile il microfono, in realtà i microfoni sono quattro questo per avere anche una riduzione del rumore ambientale in conversazione, ve lo dico subito, non ho avuto particolari problemi eccoli qua, qua sostanzialmente vedete l'altro microfono quindi uno è posizionato qua e l'altro sulla parte esterna in conversazione non ho avuto particolari problemi io non sono uno che fa grande uso del telefonate però sicuramente un po' l'ho utilizzato per provarlo e sia io che l'interlocutore devo dire che mi hanno sempre sentito abbastanza bene senza particolari difetti cos'altro posso dire? a livello di estetica diciamo che sono un pochino ingombranti magari nel senso che vanno a infilarsi nell'orecchio sporgono leggermente, neanche troppo però un pochino sporgono e hanno la particolarità di questi ear gel che li abbiamo già visti in passato su un MPU non sono il classico ear gel è un po' meno invasivo, un po' più soft anche proprio a toccarlo si sente che è più leggero di solito in passato avevamo questo come opzionale e avevamo anche l'ear gel classico qua invece anche gli altri sono tutti fatti alla stessa maniera comunque devo dire che la stabilità nell'orecchio è abbastanza buona non esageratissima nel senso che non so in condizioni di durante un allenamento non lo so, non mi fiderei non lo sento proprio così stabile appunto da consigliarlo per un allenamento però comunque non ho mai avuto neanche la percezione di averlo in uscita ce l'ho avuta a dire il vero utilizzando il gommino quello più largo infatti io adesso sono tornato a quello che era equipaggiato in dotazione e con questo invece sta più fisso all'interno dell'orecchio sono i PX7 quindi resistenti anche all'acqua per cui devo dire che a livello di specifiche questi Arbili F8 offrono veramente veramente tanto e torno sul discorso dell'autonomia perché io voglio farvi capire questa cosa qua vedete che adesso sono al 62% io questi auricolari li ho ricevuti ancora prima di Natale oggi siamo al 13 di gennaio il case l'ho ricaricato soltanto all'inizio e sono ancora al 62% e questi auricolari comunque li ho utilizzati durante le feste hanno un'autonomia grazie al case che è veramente esagerata a livello di performance audio invece cosa possiamo dire? allora è un po' il classico auricolare della fascia dei 50 euro quindi un suono abbastanza improntato verso i bassi non esagerato c'è differenza tra i bassi di un auricolare di questo tipo e i bassi offerti magari da prodotti top di gamma però nel complesso suona bene suona discretamente bene posso provare a farvelo sentire come al solito però come al solito siamo un po' limitati dalla macchina fotocamera che fa un po' da filtro andiamo quindi a provare i miei brani test e vi faccio ascoltare da qua quindi un audio abbastanza improntato verso i bassi ma che nel complesso comunque suonano bene ci tengo a sottolineare il fatto che questi auricolari li troviamo su Amazon ad un prezzo di circa 33-35 euro a seconda dell'offerta quindi un prezzo molto contenuto per quello che offre mi viene veramente difficile andare a chiedergli un audio migliore l'unica cosa che avrei preferito era un audio in cuffie leggermente più alte questo perché mi pongo nella classica situazione estiva in cui taglio il prato quindi c'è il rumore di fondo della macchina per tagliare il prato che è abbastanza invasivo avere un audio dell'auricolare leggermente più alto mi permette di ascoltare i podcast con maggiore tranquillità perché i podcast hanno un audio leggermente più basso rispetto a quello che può essere un brano musicale e quindi avere quel boost diciamo leggermente in più garantito dall'auricolare a volte può tornare utile però ripeto sono fatti veramente bene al punto che arriviamo alla prossima cosa che mi è piaciuta ovvero i pulsanti touch qui lo dico e qui lo confermo io non so chi mi segue lo sa io non sono un fan dei pulsanti touch sugli auricolari full wireless però a fine 2020 abbiamo trovato un modello che in realtà mi era piaciuto e questa tendenza si conferma anche con il 2021 e questi f8 innanzitutto mi sono piaciuti perché non comportano nessuna rinuncia a volte capita che magari i pulsanti touch non integrano i comandi volume piuttosto che l'assistente vocale e cose del genere qua invece abbiamo diciamo il set completo di quello che possono essere i comandi touch ma poi soprattutto mi è piaciuto per il fatto che risponde bene e soprattutto che non devo per forza essere diciamo perfettamente al centro dell'auricolare per azionare il comando a volte mi è capitato mi sono reso conto di essere magari leggermente un po' sul lato e comunque mi prendeva comunque il comando i comandi sono i classici quindi per accenderlo tenere premuto tre secondi nel caso li avevamo si tiene premuto e quando arriva a fine corsa si ha un feedback sonoro che ci indica appunto che siamo al massimo o al minimo e poi per azionare l'assistente vocale semplicemente triplo tocco lo faccio vedere subito un due tre assistente vocale l'unica davvero l'unica funzione che a mio avviso manca in questo auricolare è play pausa automatica ovvero il fatto che io semplicemente togliendo gli auricolari metto in pausa i contenuti e poi nel momento in cui vado a riporlo riprende dico questo perché nella fascia dei 50 euro diciamo si vedono sempre più spesso nel frattempo vi faccio vedere come risulta l'auricolare una volta indossato vediamo sempre più spesso un fiorire di auricolare che hanno questa funzionalità magari non completa magari c'è soltanto la pausa e non c'è play però secondo me a mio avviso è giusto dirlo l'altra cosa l'ultima cosa è l'utilizzo in mono perché molti magari chiedono se è possibile utilizzarle in mono ebbene si funzionano entrambi in mono in maniera effettiva con una particolarità che se io voglio semplicemente riporre uno dei due auricolari all'interno del case questo vedete va in ricarica ma non è spento e quindi agendo sul pulsante posso comunque continuare a utilizzarlo se io voglio effettivamente utilizzarle mono allora dovrò uscire con questo auricolare dal raggio del bluetooth o semplicemente spegnerlo tenendo premuto il pulsante per i 6 secondi direi che per questo auricolare per questi f8 ho detto tutto e devo dire che mi hanno veramente stupito non tanto per la qualità audio che ripeto è diciamo nella norma di quello che è l'audio espresso da questi dispositivi tra i 30 e 50 euro ma per l'autonomia in particolare questa è veramente immortale pensate che la prima volta che mi capita di lasciare l'auricolare acceso per cercare di scaricare sia l'auricolare ma soprattutto il case perché se questo non si scarica poi neanche questo va giù e sono rimasto all'inizio rimanevo nel range del 90% e non scendevo ho dovuto tenerli accesi utilizzarli veramente tanto tanto per arrivare al 62 per cento adesso il dato che non avevo detto forse l'autonomia con una ricarica singola ed è quella dichiarata di dieci ore sappiamo che l'autonomia dichiarata è sempre testata su un volume non al massimo quindi se voi siete abituati a utilizzare al massimo sarà sicuramente qualcosina meno però a dieci ore per un particolare full wireless sono veramente tanta roba non sono riuscito a arrivare diciamo a esaurirli perché dieci ore comunque vuol dire veramente utilizzare tantissimo però sicuramente hanno un'ottima autonomia in più hanno un comfort abbastanza buono perché come ho detto all'inizio il fatto di avere questa tipologia di gommino che è leggermente meno invasive di quello classico fa sì che il comfort sia leggermente migliore io direi che veramente ho detto tutto quindi se vi è piaciuto trovate il link in descrizione alla sua pagina di amazon per acquistarlo costa veramente poco lo ripeto 33 adesso sono intorno i 33 euro per questo tipo di prodotto secondo me ci sta e quindi noi ci vediamo prossima recensione come al solito se vi è piaciuto mettete like condividetelo ma soprattutto iscriviti al canale ciao a tutti